Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Uncome. Oggi parleremo dell'inversione. Per imparare a fare l'inversione con tessuti aerei, ricordiamo l'importanza di praticarlo vicino al suolo all'inizio. Portate entrambe le mani all'altezza delle spalle e di seguito le ginocchia vicino al petto. In questo modo aumenterete la forza del controllo. Da qui portate la testa all'indietro per raggiungere la posizione della B invertita. Da qui agganciate con la gamba destra al tessuto mentre stendete la sinistra. Mantenete questa posizione per poi scendere con un'altra inversione. Dopo esservi esercitati varie volte vicino a terra e se vi sentite già sicuri, potrete provare ad eseguire l'esercizio in aria. Naturalmente avrete bisogno di fare più forza con gli addominali. Ripetete l'esercizio esattamente come prima e se vi sentite sicuri potete lasciare andare la mano esterna, ma mantenetevi ben afferrati con quella interna. Sarà un ottimo esercizio per gli addominali. Per scendere ricordatevi di afferrarvi bene al tessuto, sia con le mani che con i piedi. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Se ti è piaciuto e vuoi saperne di più, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al canale. Ciao!